Le porte del treno non si aprono, così un pendolare rimane a piedi in stazione. È desolante il racconto di Pietro Bianchi, bancario che da 25 anni si serve del servizio di trasporto ferroviario per spostarsi da Morbegno a Sondrio per motivi di lavoro. Nei giorni scorsi l'uomo in stazione in anticipo si è avvicinato al convoglio per tornare a casa, ma sul treno che si è trovato davanti non è mai salito. Mi stavo recando a prendere il treno come solito, arrivo al binario qualche minuto prima della partenza, cerco di salire sul treno, trovo la porta chiusa, la prima, provo la seconda, la terza, la quarta, arrivo fino in fondo al treno, niente, tutto chiuso, guardo il treno, sembrava non ci fosse nessuno, mi fermo davanti al treno, dopo un paio minuti il treno parte. Cosa faccio? Vado immediatamente a chiedere un'informazione in stazione perché magari era rotto, c'era qualche problema. Gentilissimo il personale della stazione mi dice non c'è nessun problema, ma molto probabilmente era aperta solo la porta in alto. Fatto sta che io ho perso il treno, che prendo poi quasi tutti i giorni, quindi sono rimasto malissimo. Sfortuna vuole che quel giorno lei avesse proprio un appuntamento. Assolutamente sì, succede sempre così. Dovevo andare a prendere delle cose perché il giorno dopo si lavorava mia figlia e sono corso al treno, sono arrivato anche cinque minuti prima per essere sicuro di non perderlo, tac, ma poi se non riesci ad arrivare da tempo ci sta. Ma trovarti il treno davanti, il treno che prendi quasi tutti i giorni, che parte e tu rimani lì così, è come una beffa. Lei è da tantissimi anni che prende il treno per motivi di lavoro nella tratta da Morbegno a Sondrio. Capitano spesso questi disservizi? Eh, purtroppo, purtroppo sì. O il treno è in ritardo, o d'estate non va l'aria condizionata, quando viene la prima neve si ferma, o ce n'è sempre una. Cosa si sente di dire a Trenord? Qui bisogna fare degli interventi, bisogna dividere il tratto, lecco colico e colico sondrio, chiave, in modo tale da avere qualche treno, magari con meno vagoni, per non far andare il treno vuoto, ma con possibilità di muoversi, perché secondo me c'è tantissima gente che prenderebbe il treno, ma è disincentivata dal fatto che ormai è capitato anche a mia moglie di venire a Sondrio per il lavoro, deve sempre prendere il treno prima, l'ora prima, perché? Per essere sicura di arrivare, se no il treno è cancellato, il treno è in ritardo e dopo se uno lo fa per lavoro è un problema. Sui treni vedo sempre che comunque si crea della sporcizia, comunque non creata da chi gestisce il mezzo, ma più che altro dai civili che ci salgono sopra. Più che civili, incivili. Incivili, giusto.